Qual è una delle principali caratteristiche del Golfo Napoletano? Allora guarda, noi abbiamo tantissimo tufo, abbiamo zone di franata in linea generale sotto costa, ci sono dei punti in cui la montagna è scesa così e quindi ha creato delle franate che sono molto interessanti. Poi noi abbiamo comunque, tieni conto, delle isole davanti, abbiamo Procida, Ischia, Capri dall'altro lato che creano comunque delle zone di basso fondo e non dove c'è questa specie di tufo, è un coralligeno che spacca poco, però è abbastanza vivo in linea generale con tutta la pressione venatoria ed anche turistica che c'è, devo dire la verità, è un posto che ancora può regalarti qualche emozione. Prima di continuare con il video volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube. Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacqueo che si chiama MSA Controcorrente, un brand che gira attorno a noi pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori. Motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere basta scriverci. Benvenuto Alfonso Cubicciotto, come stai? Grazie, grazie mille Chris. Tutto bene, grazie. Tu? È un posto ancora, è una giornata lunga. Tu mi dicevi che hai appena finito di fare piscina? Sì, sono appena uscito dalla piscina. È stata una giornata massacrante, però bene che sì. Cioè? Raccontami da quando ti sei arrivato. È una giornata lavorativa lunga. Ho iniziato presto perché lavoro con la Cina, quindi ho orari particolari. Vengo anche svegliato in piena notte alle 4, alle 5 del mattino con telefonate. Ecco, vedi? Eccola. Scusami. E niente, quindi sono stato svegliato stamattina molto presto. E non mi sono mai riaddormentato poi alla fine, perché purtroppo poi succede così che tu... Quando prendi questi ritmi poi inizi... A che ora ti sei svegliato? Mi hanno svegliato alle 5 e un quarto stamattina. Normalmente è così? No, no, no. Non tutti i giorni, fortunatamente. Cioè, ci sono anche giornate dove mi sveglio ad orari normali, però... Ok. Stamattina è un po' prima. Anzi, dai, diciamo ad onore del vero la maggior parte, dai. Poi capita qualche volta alla settimana, insomma, che vengo importunato presto. Poi hai finito di lavorare e poi che hai fatto? Ho finito di lavorare e ho portato in giro il cane, perché è un cane bellissimo. Che cane? Un Radeisen Ridgeback. E che spaccato. È un cane sudafricano, un cane da caccia sudafricano che pesa la bellezza di 55 kg ed è 55 kg d'amore, però deve essere, insomma, gestito e quindi, niente, sono stato un po' in giro. Pelo lungo, pelo corto, descrivimelo, per chi non ci... per chi non ha, come me, idea di che forma... Allora, è un simile alano, però un po' più snello, più definito a livello muscolare, pelo corto, è più... sì, sì. Eh, come mai questa razza così particolare? Eh, perché allora, lui in realtà è stato preso in un periodo della mia vita abbastanza particolare, perché avevo appena perso il mio compagno di pesca, che è morto in acqua, e insomma, ero in un turbine di emozioni, avevo un casino emotivo all'interno, pazzesco, e ho deciso di prendere un cane perché sentivo di doverlo fare. Ok. E niente, in quel momento ho scelto quella razza lì, perché in realtà è una razza sconosciuta, però l'avevo visto a Roma, in realtà, questo cane qui, mi era piaciuto, ho detto, sai che c'è, ma lo prendo. Ho fatto una buona scelta perché, in realtà, anche se è grande, è comunque un cane molto equilibrato, affidabile. Ok, è il primo cane, quindi? No, no, è il secondo, poi ne ho avuto già uno tempi addietro. Ok, ok. Quindi passeggiatina col cane. E poi allenamento in piscina, allenamento, due chilometri e mezzo di moto stasera. Ok. Che stile ti piace fare? Eh, sono proprio fisicamente portato per lo stile libero. Sai, ogni nuotatore, in realtà, ha delle caratteristiche fisiche che fanno sì che in automatico preferisca uno stile. Ok. Perché è proprio una questione di conformazione fisica. Cioè, ci sono persone più portate per determinati movimenti. Io sono proprio portatissimo per lo stile, ma sono l'antitesi del dorso, per esempio. Ok, ok. Per me il dorso è complicatissimo. Mi verrebbe da dire un po' come mai che mi piace fare niente. Comunque, comunque, allora, lavoro, Cina, di che ti occupi? Allora, io produco borse, per stringertela in maniera molto... Ok. Sono un produttore di borse, ho un hub di produzione in Cina e... Che figata! In alcuni paesi del Mediterraneo e faccio anche made in Italy. Quindi ho diverse strutture sparse per il mondo e mi occupo di produzione di borse per brand europei, americani e nord-europei. Ok, quindi tu praticamente, fammi capire, quando tu parli di hub, tu fai da intermediario, cioè compri, designi il prodotto finito e poi rivendi il prodotto da brandizzare? Allora, esattamente. Io sono partito così. Sono partito qualche anno fa facendo da, tra virgolette, intermediario, perché ho uno zio che vive in Cina da 15 anni. E sfruttando i suoi contatti io ho trovato le connessioni per poter matchare questa domanda e offerta che c'era, perché ti spiego che i brand europei non vogliono interloquire direttamente con la Cina, se non sono strutturati bene a livello aziendale. Poi ci sono le mega strutture che ovviamente hanno tutto internalizzato e riescono a gestirla. Però i brand più piccoli, quelli con un fatturato, diciamo, più a misura d'uomo, hanno la necessità di avere un interlocutore che però sia europeo, non cinese, perché ci sono delle difficoltà proprio socio-culturali che sono ovviamente abbastanza complesse da gestire. E quindi preferiscono avere in luogo una persona che sappia gestire i cinesi, ma che sia europea nello stesso tempo per essere, capito... Ok, che figata. Io sono nato così, poi sono stato assorbito da uno dei miei fornitori, quindi io trovavo il cliente, avevo un plafond di fornitori e alla fine uno dei fornitori mi ha comprato. Quindi io sono entrato poi in società con lui, ho preso delle quote, non mi sono fatto pagare, ho rilevato delle quote della sua azienda, quindi l'azienda diciamo in Cina è di mia proprietà. E poi ho tutte collaborazioni, quindi ho replicato questo modello per la parte italo-europea, quindi faccio lo stesso servizio sempre per brand, però per un segmento di settore più alto, cioè non è il settore entry-level, ma si chiama settore premium, cioè borse un po' più care. Ok, allora, che casualità, ora ti spiego. Sono molto interessato a questo, dopo capirei perché. Ok. Come gestisci la percezione del prodotto made in Cina con i tuoi clienti europei? Allora, guarda, in realtà è meno complesso di quello che pensi, perché il cliente finale arriva già sapendo che deve fare un prodotto made in China, cioè viene da te non perché è forzato, ma perché vuole farlo lì. Ok. Oramai la Cina ha, sembrerà strano, ma ha una qualità in termini di manifattura che non si trova più da nessuna parte, cioè veramente solo, dopo la, cioè prima della Cina viene solo il made in Italy, poi i migliori a fare le borse sono i cinesi. Infatti, i costi stanno iniziando a lievitare, perché poi i cinesi, dato che ci vedono lungo, sono uomini d'affari seri. Impressionanti. Impressionanti. Hanno oggi, come oggi, le migliori aziende al mondo per quanto riguarda certificazioni, ecosostenibilità, quindi dato che oramai, come tu saprai, sicuramente le grosse aziende, le grosse brand, cioè i grossi brand di moda, hanno delle policy sul tema ecologia, eccetera, eccetera, strettissime. Quindi hanno una necessità a livello certificativo veramente impressionante, con le richieste abbastanza alte, sì, e quindi ovviamente i cinesi si sono adeguati, e quindi se tu vai da loro trovi tutto perfetto, che puoi produrre, puoi importare in Europa con serenità, cosa che invece nei bacini, diciamo, del Mediterraneo sono poche ancora le aziende con cui riesci ad arrivare ad un determinato livello di certificazione. Ok, certificazione mi verrebbe anche da dire, corregimi se sbaglio, costi, quantità, probabilmente? No, le certificazioni sono sui processi produttivi, quindi devono essere ecosostenibili, cioè nel senso quando tu tagli la pelle o la plastica, perché si chiama più in gergo il foglio di plastica, devi avere tutte delle procedure automatizzate che però devono usare poca acqua, essere ecosostenibili, i materiali devono essere di origine controllata, se sono materiali di animali devono avere un'origine, capito, super controllata, codificata. La tracciabilità, insomma. Esatto, devono essere, insomma, tracciabili e tutto quanto, quindi parliamo di certificazione in questo senso, sì. Ok, da quanti anni sta nel settore? Io relativamente da poco, saranno cinque anni fondamentalmente, perché prima io ho studiato, ho fatto l'università, ho studiato economia, ho fatto management e poi ho studiato finanza a Milano e sono andato prima a lavorare in banca lì a Milano, sono scappato via dopo due anni, perché non ho resistito, ho resistito veramente poco, non fa per me tutti i giorni giacca e cravatta, insomma, non era il mio mondo. E sono scappato da lì e ho fatto poi gestione patrimoni, avevo, facevo gestione di patrimoni personali, quindi immobiliari e finanziari di persone fortunate nella vita e sono stato a Roma cinque anni, ho aperto una società con un socio lì, dove gestivamo appunto questi patrimoni. Poi, proprio durante il periodo del Covid, si sono create una serie di connessioni e di difficoltà lavorative che hanno fatto sì che io poi migrasse in Cina e cambiassi totalmente il lavoro, perché durante il Covid sono stati tagliati tutti i consulenti esterni, quindi proprio la mia figura è stata la prima, è il primo taglio dei costi che fondamentalmente è avvenuto. E quindi, perdendo un pochettino di terreno sotto questo punto di vista qua, mi sono trovato in una situazione poi, per puro caso, con mio zio a parlare, eccetera, eccetera. Da lì poi è nato un fiore, perché oggi come oggi non tornerei mai indietro e il lavoro, diciamo, che mi piace di più a tutti. Tu hai abitato lì? Io no, però vado tutti gli anni due, tre mesi l'anno. Ok, com'è la vita lì? Eh, guarda, la Cina è sorprendente, posso dirti. È un posto particolare, duro, sicuramente, perché avere a che fare con i cinesi è una cosa veramente quasi impossibile. Però se entri in alcuni meccanismi e riesci a fare breccia nel cuore dei cinesi, cioè quindi riesci a crearti degli amici, perché è una cosa veramente complessa, è un posto anche molto divertente. Molto divertente. Poi tieni conto, beh, io vado a Hong Kong, quindi è uno dei posti più europei, capito, più occidentalizzati. Sì, ci sono stato. Nella zona asiatica, sì. Eccezionale, eccezionale. Ci sei stato al Grande Buddha, ci sei salito con... Sì, sì. Mamma mia. Spettacolare. Mamma mia, ho i brividi in questo momento. Sì, sennò ho visto. La cosa che ti ha colpito di più della cultura cinese? Allora, diciamo che ho avuto purtroppo poco a che fare con la cultura cinese, perché tieni conto che io l'ho vissuta tutta durante il periodo Covid, ok? Quindi non si poteva uscire, poi tieni conto che rispetto a noi loro hanno avuto tantissime restrizioni, anche post il nostro periodo Covid. Quindi quando noi eravamo liberi loro comunque avevano un coprifuoco, io sono stato lì, tieni conto che per entrare ci ho messo 21 giorni. Sono stato 21 giorni da solo dentro un albergo per entrare, insomma. Allora, e la cultura cinese in realtà diciamo che loro hanno un'identità non formatissima, perché comunque avendo il regime che si sente, cioè tu ci sei stato e immagino tu l'abbia percepito. È abbastanza, cioè è molto legata al loro governo, capito? Quindi non hanno una grandissima libertà di espressione sotto certi punti di vista. Però le cose più sorprendenti sono proprio le cose relativi al mare in realtà. Hanno una cultura marinaresca abbastanza profonda. È una cosa che ho notato e fondamentalmente molti vivono il mare come lo viviamo noi. C'è lì, c'è gente che ha la voglia di andarsi a fare il bagno a mare quando il tempo è buono. Si vanno a fare la pescatella con il banchino, con la canna, pescano i calamari, pescano le loro seppie. E diciamo è stata la parte più bella perché poi dietro ogni pesce c'è un significato particolare che adesso sinceramente non ricordo con grande precisione. Però trattano, voglio dire, pure l'animale con una profondità che noi non abbiamo sotto questo punto di vista. Quasi giapponese. Ok, che bello, che bello. Viaggiare è qualcosa di illuminante. A me ha sempre un po' come, non direi quasi che è un luogo comune, ma hanno un'etica lavorativa che li mette tra i primi posti nel mondo in fatto di produzione, di capacità produttive. Ah beh, diciamo che loro, se posso dirlo, avendo un pochettino di esperienza non hanno etica lavorativa, cioè nel senso che la loro etica è non averla, cioè sono spietatissimi. Allora parliamo, l'ho fraseggiata in maniera errata. No, 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 vabbè, ma figurati. Proprio lavoro, lavoro, lavoro. Sì, sì, sì. È quello che succede, succede. Ma infatti loro sono molto più avanti di noi per questo, perché diciamo che tendenzialmente il singolo individuo non è brillante, mai, ok? Però ha una forza lavoro, cioè ha una capacità di abnegazione per il lavoro che noi non avremo mai. E quando trovi il cinese che è illuminato e dà la mentalità giusta e riesce a coadiuvare tutto questo... Costruisce un impero. Eh sì, perché è fortissimo lui, cioè se lui è illuminato ha una forza lavoro che noi non abbiamo, quindi lui ovviamente poi... Guarda, ti dicevo all'inizio della conversazione, quando tu mi hai detto oggi della Cina, io ce l'ho avuto il pensiero, ho detto ma vuoi vedere questo picciotto? Diciamo che il business model di MSA, che è la mia start-up di Pesca e Subac, è ruota intorno a quello di cui tu stai parlando e di cui tu ti occupi. Noi abbiamo dei fornitori in Cina, che tra l'altro sono anche fornitori di case produttrici abbastanza conosciute anche a livello europeo. Facciamo tutto il lavoro di progettazione e di branding, importiamo e rivendiamo tutto qui. Ah, benissimo. Ed è stato un percorso estremamente interessante riuscire ad arrivare a questi produttori, tutto in remoto peraltro, e ti devo dire che non è stato semplice per niente, perché comunque, a parte la barriera linguistica, che comunque l'inglese non era masticato bene, almeno con le persone con il quale ho avuto a che fare, è stato un salto nel vuoto a tutti gli effetti, poi chiaramente affidandosi alle compagnie giuste, ci siamo messi nel canale giusto ed è qualcosa di estremamente interessante da coltivare. Che figata, vedi che cose, quanto è piccolo il mondo. Comunque, allora, io vedo, cazzo, fucili dietro, quello è il soggiorno, non sai in che parte dell'epoca stai? No, no, questa è una stanzetta bunker che ho dove, adesso qui non lo vedi, ma al mio fianco ho un tavolo da lavoro con tutti gli attrezzi appesi, insomma è la mia zona rifugio dove ho il computer per lavorare e poi ovviamente qua smanetto vicino ai fucili quando monto, smonto. Ok, cos'è un, è un, sembra l'impugnatura di, cos'è, di un Mirage, il primo, che cos'è? Allora, il primo, quello in alto, è un oleopneumatico con un'impugnatura di un SL, ed è un 130, poi guarda, molti di questi, oramai utilizzo solo ovviamente i fucili Seagal, questi sono fucili vecchi che ho e li tengo qui messi un poco così perché non saprei, guarda, provo a girare un pochettino la telecamera, ho altri mazzi a terra. Non ce n'è, mazzi, mazzi a terra di fucili, quindi è più o meno, la situazione in questa casa è più o meno questa. Sì, fantastico. E allora, parlando adesso di pesca subacqua, non è un podcast su come fare business con la Cina, almeno per il momento, anche se io lo troverei estremamente interessante, anche perché, piccola parentesi, trovare informazioni su come fare quello di cui io mi occupo adesso, di quello di cui sicuramente ti occupi tu, non è per niente facile, cioè, è un casino. È un casino. Allora, pesca in apnea, quando comincia tutto, Alfonso? Allora, il tutto comincia, posso dire, di essere nipote d'arte, mettiamola così. Mio nonno era un pescatore subacqueo, ovviamente non ai livelli della pesca di oggi, era, si faceva il bagno, insomma, pescava polpi, seppie, gli capitava magari la spigola, così, e nasco pescatore proprio perché lui aveva questa passione immensa e mi ha praticamente contagiato subito, quindi ero piccolissimo, io già a 12-13 anni lo seguivo, tieni conto che io a 14 ho fatto il primo corso di apnea, subito proprio, sono partito per la tangente così dritto per dritto e lo seguivo e inizialmente ho iniziato a pescare con un forchettone, banalmente, cioè, prendevo i quattro occhi sulla sabbia, le sogliolette, i polpi, così, poi sono passato al polpone e da lì poi c'è stata un escaliccio, ah, ricordo questo aneddoto, ero in Grecia, avevo il polpone, ero in vacanza con i miei genitori e mio padre disse, se prendi un pesce sopra un chilo, cioè che pesa più di un chilo, ti compro questo fucile che probabilmente qualcuno lo conoscerà, c'era una marca greca che si chiamava Lanara, è una specie di, un fucile particolare che si caricava con una leva, insomma, una cosa veramente strana e complessa, però ero impazzito per questo fucile e lui mi disse, se prendi un pesce più di un chilo, pensando che io non ci sarei mai riuscito, te lo compro, alla fine io ebbi la fortuna di, girando, girando, di trovare una pescheria dietro l'ango no, girando, girando, sotto i sassi mi sono messo, mi sono messo, alla fine presi un sarago che faceva quasi un chilo e due ma esatto, e tornai a terra con questo pesce che per me all'epoca era una cosa enorme gigante, non ci credevo nemmeno io e alla fine mio padre, che dovette mantenere la parola, mi comprò questo fucile e da lì poi sono partito wow con la, sì sì, con l'amore per il mare infinito quanti anni hai? eh, fatti il 12 ottobre qualche giorno fa, 34 34, eh, super giovane e invece di, ho un'idea di quale zona dell'Italia tu sia, ma dammi conferma, di dove sei? eh, non si sente dall'accento, vero? ora, ma già mi sono assuefatto no, no, sono napoletano napoletano ok, napoletano, zona più o meno della città napoli, sono di Santa Lucia, proprio sul mare, sono affaccio, lato del castello ok sono di, cioè sono cresciuto proprio in riva al mare com'è la pesca subacquea a Napoli, nel napoletano, per, per antonomasia, non nel, in acqua, in sé l'ambiente napoletano com'è? allora, guarda, l'ambiente napoletano, eh, ha tante sfumature, nel senso c'è gente che, eh, si è evoluta sotto il punto di vista venatorio, intendo, eh, e sono, ci sono veramente persone ad alto livello, c'è gente che magari, eh, non è pubblicizzata, non si sponsorizza, ok? ok, ed è veramente d'alto livello poi c'è tutta una serie, una fascia, diciamo, di pescatori che hanno deciso proprio perché, ehm, secondo me, eh, Napoli è complessa, ti spiego, eh, il golfo, eh, è pieno di zone interdette, porti, eh, aree, eh, il carcere di Nisi da, eh, zone dove non puoi pescare, così, eh, alla fine della fiera, tu, eh, in teoria, per pescare senza nessun problema, ti devi distritti, ricare in mezzo a queste, a questi continui due vieti tra aree marine, che poi non ne parliamo, abbiamo, solo nel golfo, quattro aree marine protette, e teni conto che il golfo è largo 20 miglia, eh, non è un, non è immenso, abbiamo quattro aree marine protette, tutta una serie di porti, quindi, eh, e quindi le persone, ovviamente, si fanno la pescatella, capito, nella zona consentita, e non, e restano lì perché, tanto, la Ischia non ci puoi più andare perché, così, eh, allora non comprano magari il gommone, e quindi restano fermi alla pesca classica, capito, non, ok, ok, a te piace quell'idea di pescare da terra, cioè, si, 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 no, io ci sono cresciuto, così, ho sempre pescato da terra, a spigole, fondamentalmente il golfo, è, è famoso, il golfo di Nafolo è famoso per la pesca, diciamo, alla spigola, quindi, in poca acqua, pescando saraghi cefali d'inverno prevalentemente il colpo regala tantissime prete di questo. Concludendo il discorso dell'ambiente napoletano, dici queste persone non si sono evolute una parte rimane a terra, l'altra parte invece probabilmente avrà preso il mezzo nautico Sì, sì, sì è sempre questione anche di possibilità oltre che voglio dire economiche, perché comunque avere un mezzo nautico è una spesa è proprio anche in merito non tutti si prendono magari l'onere di allontanarsi troppo perché comunque tieni conto che per andare magari in zone di pesca libere tranquille devi farti anche magari 14 15 miglia di navigazione non tutti ci hanno, cioè non siamo fortunati come tanti che escono dal porto e ci hanno capito, a un milio e mezzo da casa la zona pescabile purtroppo è un golfo complesso. In termini invece di morfologia del fondale qual è una delle principali caratteristiche del golfo napoletano? Allora guarda, noi abbiamo tantissimo tuffo ok? Abbiamo zone di franata in linea generale sotto costa ci sono dei punti in cui la montagna è classica sai, è scesa così e quindi ha creato delle franate che sono molto interessanti e poi noi abbiamo comunque tieni conto delle isole davanti abbiamo Procida, Ischia, Capri dall'altro lato che creano comunque delle zone magari di basso fondo e non dove c'è questa questa specie di tuffo è un coraligeno ok? che spacca poco però è abbastanza vivo in linea generale con tutta la pressione venatoria ed anche turistica che c'è devo dire la verità è un posto che ancora può regalarti qualche qualche emozione ok e qual è una delle batimetriche che è più è alla portata di tutti che pensi possa regalare emozioni o se vuoi scendere assai no, no, no guarda allora il Golfo di Napoli paradossalmente ti può regalare qualsiasi tipologia di pesce anche in 15 metri 20 metri d'acqua c'è una zona dove puoi tranquillamente prendere identici interessanti anche in 13 12 15 sì, sì capitano dei periodi dell'anno particolari in cui non è tutto l'anno così assolutamente però ci sono dei momenti in cui al posto giusto riesci a fare magari la cattura tipo parasampio magari metà giugno ci sono due settimane a cavallo metà giugno verso la fine di giugno ci sono due settimane tendenzialmente poi dipende moltissimo dalla temperatura dell'acqua eccetera ci sono dei posti magari vicino alle isole dove con facilità puoi incontrare dei bei branchi identici o magari in altri periodi dell'anno tipo verso novembre puoi incontrare le orate ci sono tutta una serie di zone sai dove puoi ok quali sono le condizioni che vai a cercare in questi periodi allora guarda io sono napoletano pesco nel golfo ma in realtà la mia zona di caccia mettiamola così preferita è Ponza è un'isola che si trova nel Lazio quindi più a nord rispetto rispetto Napoli quando pesco su Napoli io cerco tendenzialmente di evitare in tutti i modi il traffico nautico perché abbiamo veramente una pressione sotto questo punto di vista pazzesca incredibile quindi mi sono ritagliato delle zonette del golfo sai leggermente in disparte dove vado lì e faccio quella pesca indistintamente dalle condizioni che trovo perché sono forzato dal fatto che mi scoccio di andare magari a litigare con la gente perché ci sono le barche ancorate d'inverno invece riesco più a gestirmela questa cosa qui e io amo pescare a spigole è una pesca che mi piace moltissimo però diciamo che poi per il resto dell'anno vado a Ponza che è un'isola meno affollata sotto questo punto di vista e pesco dato che c'è un'ottima visibilità preferisco pescare poi fondo magari a sgancio però non disdegno mai pinne e pescare comunque razzolando così assolutamente hai un pesce preferito? eh sì identice è una mania perché l'emozione che ti trasguarda la cernia per farti capire per farti un paragone non è una questione di quantità di pesce preso cioè non è quante cernie in proporzione identici uno prende e quindi preferisco è proprio l'azione di caccia che mi piace di più cioè la cernia spesso e volentieri può essere anche un pesce facile da catturare ok è un pesce che magari cioè a livello statistico è più facile che magari la incontri in tana messa in una posizione corretta quindi la spari la tiri fuori e te ne vai e quel gesto tecnico in realtà secondo me di tecnico ha ben poco rispetto magari alla cattura di un dentice che a livello sempre statistico è molto più complesso da avvicinare certo ti capita pure il dentice in tana ti capita pure fermo magari in pigiamato così però proporzionalmente sono molte più le volte che te lo devi sudare e quindi è una questione proprio venatoria di difficoltà della cattura che reputo più difficile e quindi mi attrae di più ecco mi attira di più hai un ricordo particolare di uno dei dentici più difficili e più appaganti che hai catturato guarda in realtà se ti devo dire qual è quello che mi ha emozionato di più è stato proprio il primo dentice che ho preso ed ero a Napoli ero con questo amico che oggi non c'è più e ricordo proprio nitidamente che quella giornata scherzavamo sul fatto che avremmo fatto la prima cattura cioè avremmo preso il nostro primo dentice perché c'erano le condizioni eravamo degli sbarbatelli proprio all'epoca ne capivamo ben poco però quel giorno probabilmente la fortuna mi ha assistito e ricordo lui pescavamo l'uno sopra l'altro ricordo che il tuffo precedente li aveva visti lui e agitato mi disse Alfonso guarda ci sono i pesci ci sono i denti ci sono i denti scendi 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 io mi appostai catturai questo pesce che era un pesce di scarsi due chili quindi non parliamo di una preda però quando sono uscito l'esultanza che ha avuto il mio compagno di pesca era maggiore della mia e quindi ricordo questo attimo più che la cattura in sé era la compagnia che mi mi rende il ricordo piacevole perché ovviamente è stata un'emozione condivisa in due è come se l'avesse catturato lui e quella è stata una cosa molto molto bella intensa quindi quello è quello che preferisco trovi sia rara da trovare questa genuina felicità verso il proprio compagno di pesca sì non è una cosa guarda non è una cosa banale scontata perché purtroppo secondo me nell'ambiente c'è un pochettino di come posso dirti cioè mi rendo perfettamente conto che comunque la pesca è uno sport solitario ok dove si creano anche delle dinamiche un po' particolari sui posti piuttosto i pesci catturati da altri quindi parliamo di gelosia e cose varie sicuramente condividere la passione con un amico è qualcosa che amplifica all'ennesima potenza la goduria che uno prova secondo me nel pescare normalmente quindi una cattura fatta in compagnia di un amico vale molto di più rispetto ad una che voglio dire fai da solo però sì è difficile perché alla fine vedo tantissime persone che poi girano poi litigano poi scompaiono io invece sono uno che ha litigato veramente poche volte nella vita con un compagno di pesca e se sì è stata risolta proprio rapidamente lì ma proprio per una questione di chiarezza io attraverso la pesca ho stretto dei legami fortissimi con amici che reputo fratelli non amici quindi cioè sono grato alla pesca anche per questo perché mi ha fatto trovare veramente dei fratelli ti ha fatto scoprire dei valori che alla fine possono esistere nell'essere umano e che sicuramente danno fiducia ho capito bene che quando tu hai preso il dentice tra virgolette più importante della tua vita il tuo amico è venuto a mancare in quella giornata no 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 lui era poi negli anni successivamente ci siamo voglio dire allontanati ma non perché l'abbiamo voluto entrambi assolutamente ma perché la vita ci ha proprio separato lui ha fatto un percorso universitario particolare quindi per forza di cose non siamo più andati a mare insieme con una regolarità tale capito rispetto al passato ovviamente lui era andato a vivere a Filippudi nella sua vita aveva scelto di andare a vivere lì e studiava da lì quindi sai era complesso no fare cioè fortunatamente lui è venuto a mancare ad ottobre e io quell'estate ero andato proprio a Filippudi per andarlo a trovare sono stato insieme a lui l'ultima estate insomma della sua vita fortunatamente quindi ho ho condiviso con lui l'ultimo periodo le ultime pescate le abbiamo fatte insieme è stato un incidente che è accaduto a mare sì sì a mare era da solo purtroppo e aveva incastrato una cernia a una trentina di metri di profondità e lui era uno che aveva serenamente quelle quote a pinne cioè io ci ho pescato una vita e posso garantire che non ha fatto nulla che non fosse nelle sue possibilità però purtroppo probabilmente quella giornata sai il corpo non è che tutti i giorni è predisposto per fare sempre lo stesso esercizio costantemente evidentemente quel giorno ha forzato un po' di più ed è andato in sincope è risalito a galla però purtroppo non era non era accompagnato non c'era nessuno quindi non ha avuto la possibilità di essere salvato perché ovviamente è aggallato a pancia sotto e quindi non c'è stata possibilità poi vabbè è stato trovato dopo tempo insomma dopo una settimana purtroppo perché poi è arrivato un mal tempo eh sì vabbè purtroppo la vita è fatta come l'hai vissuta questa cosa eh guarda ti dirò è stato è stato motivo di grande è stata cioè ti sembrerà strano ma è stato motivo di grandissima motivazione per le gare proprio è stata cioè paradossalmente sai potevamo potevo anche avere la reazione opposta e contraria dire non voglio più andare a mare nella mia vita non voglio più vuoi vincere per lui sì no cioè sai che cos'è che fondamentalmente eh mi sono trovato al punto di dover stimolare me stesso per non pensare sempre a determinate cose eh e alla fine ho trovato un nuovo stimolo nelle gare che mi ha dato proprio capito cioè io sento che me l'ha data lui questa roba qua cioè questo stimolo qua ce l'ho perché è successo anche quella anche se avevo già iniziato il percorso di gare in Lodempore quando è successa questa cosa però è stato cioè lui mi ha dato proprio quel quella per dire no adesso ti butti testa e pensiero in questa cosa qua perché così deve essere ti capita di pensarci quando vai a mare sì no vabbè mi capita di pensarci non dico tutti i giorni ma quasi però però quando vado a mare sicuramente un pensiero sempre sempre wow ma positivo eh mai negativo certo 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 mai negativo parlavamo di amicizie sì da poco ho intervistato intervistato ci sono fatti una chiacchiera a lungi da me l'idea di essere un intervistatore perché poi nei commenti ci scrivono lo schifo eh Andrea fazzolari sì sembra esserci un forte legame tra di voi eh per me ti ho detto Andrea è uno di quelli che posso reputare un fratello cioè il mare ci ha fortunatamente congiunto e quindi sì assolutamente sì durante la conversazione con lui sottolinea che a un certo punto della vostra relazione vi mettete a tavolino e dite ok adesso noi ci mettiamo in questa cosa nel mondo delle gare suppongo vediamo di spaccare il mondo come come è arrivato questo momento dimmi la tua versione di quella di quella situazione allora Chris guarda ehm eh il tutto nasce eh dal fatto che proprio per l'appunto cercando nuovi stimoli eh le gare erano eh una via per rendere ehm voglio dire il mare oltre che una passione eh un qualcosa che veramente ti ehm ti desse una struttura a livello sportivo ok cioè alla fine eh andare a pesca in maniera normale è un qualcosa è un hobby capito che sta lì e quando ci puoi andare ci vai invece io avevo proprio la necessità di vivere questa cosa in maniera molto più intensa e le gare sono una motivazione per dire anche se non ci voglio andare ci devo andare perché mi devo allenare e poi ovviamente questa cosa qui si riflette anche poi sulla terraferma vedi sono uno che va in piscina perché devo essere preparato fisicamente per questa cosa ed è una cosa che io ho trasmesso ad Andrea e ho trovato terreno fertile dall'altro lato cioè lui era più o meno già estradato su questa strada qui e ci siamo resi conto che comunque alla fine approcciando il mondo delle selettive io ne ho fatte poche perché ho fatto solo le selettive ho fatto un anno di selettive poi sono fortunatamente passato subito in seconda fatto il campionato di seconda il primo che feci a Taranto nel 2016 mi ricordo che arrivai sesto e mi resi conto che comunque certe cose le potevamo fare lui era il mio barcaiolo all'epoca e io dissi guarda Andrea vedi alla fine ci riusciamo a fare le certe cose quindi mettiamoci sotto perché non abbiamo nulla in meno degli altri cioè basta bisogna avere dedizione resilienza stare lì provare riprovare riprovare e vedrai che sicuramente riusciremo a fare quello che è alla nostra portata cioè non è una cosa troppo lontana da noi poi tieni conto che ovviamente non è che siamo partiti dicendo vogliamo arrivare in nazionale assolutamente siamo partiti dicendo si può fare una buona seconda poi siamo andati sono andati in prima si può fare una buona prima capito cioè è stato step by step ovviamente il progresso quindi la consapevolezza è arrivata durante il tempo e poi secondo me è importante perché avere una persona che ti è amica ti stimola anche in questo senso a dire cioè devo migliorare perché pure Andrea sta lì e sta facendo questo capito cioè devi no qui poi è inevitabile che non si arrivi in nazionale ma in senso figurativo nel senso da soli è complicato se accanto hai qualcuno che ti stimola a fare quando dici minchia no no andiamo allora è chiaro che assolutamente tu mi stai parlando fondamentalmente di quasi una necessità personale umana nella ricerca di una disciplina che ci dia un certo senso di rigidità personale nel convincerci che le cose si possono fare sì 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 è un punto di vista assolutamente assolutamente sì come ti aiuta nella vita di tutti i giorni questa tua determinazione nel mondo sportivo allora guarda io sono cioè diciamo che questa determinazione che ho nell'ambito sportivo ce l'ho anche sotto il punto di vista lavorativo però dall'altro lato sento una grandissima necessità di lasciare quanto più possibile spazio all'attività sportiva e quindi se posso fare diciamo un paragone ti dico che comunque a livello lavorativo sono molto meno come ti posso dire grintoso ecco sotto questo punto di vista preferisco molto di più investire la mia grinta nell'ambito sportivo cioè sono uno che si accontenta a livello lavorativo non sono quello che dice cioè se devo raggiungere un obiettivo lo raggiungo sono lì ci lavoro e ci arrivo però non sono lo stacanovista di turno capito che dice no di arrivare perché credi che vada a togliere del tempo all'attività assolutamente sì 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 assolutamente ci sta ci sta cioè per me è una priorità è una priorità assoluta e perché è una priorità eh ma perché sai è perché poi la pesca subacque cioè dico è una abbiamo parlato di pesca subacque e quant'altro però vedi cioè non è il calciatore non è il tennista cioè è un è un qualcosa di particolare la pesca subacque avere tutta questa voglia di convogliare questa energia e determinazione in una in un'attività come questa mi solleva dei dubbi perché perché di base eh di base c'è la passione poi subentra l'ossessione e quindi la diventi atleta cioè quando sei ossessionato sei diventato un atleta a tutti a tutti gli effetti perché alla fine il calciatore il giocatore di basket sono atleti ossessionati dal performare e dal dal primeggiare questo è più o meno il concetto lo sport che loro praticano è poi un mezzo per soddisfare fondamentalmente l'ego personale capito cioè di base c'è la passione del mare ovviamente però l'hai canalizzata per poi far sfogare questa tua capito voglia di primeggiare voglia di primeggiare capito quindi alla fine cioè probabilmente se a me ad Andrea ma come a tutti gli atleti di prima e della nazionale fosse piaciuto probabilmente non lo so il tennis probabilmente anche lì qualcuno di noi avrebbe primoggiato nel tennis capito perché è un'attitudine secondo me caratteriale e mentale la cosa l'Alfonso che aveva 16-17 anni che cosa pensava che scuola hai fatto che com'è stata la tua adolescenza eh complessa nel senso che comunque Napoli è una città difficile non è una città facile e i ragazzi qui crescono molto più velocemente rispetto vabbè parlo del sud Italia in generale ovviamente tu mi puoi capire conosci Brancaccio sì sì io da lì sì sì no lo conosco quindi voglio dire eh ci sono ovviamente situazioni particolari in cui eh bisogna adattarsi bisogna crescere rapidamente quindi la mia infanzia è stata è stata bella fondamentalmente non posso dire che è stata brutta è stata complessa nel senso che comunque ci sono state tutta una serie di situazioni particolari che l'hanno resa un pochettino pesante sotto certi punti di vista però eh cioè in linea di massima ti va di parlarne? ehm no preferirei di no sinceramente sono cose che tengo per me private va bene ma non peraltro non peraltro perché alla fine poi magari nell'ambito pesca non credo ne abbia troppo poi poi senso alla fine questa dico accetto per puntualizzare dico è un a me piace pensare sempre che chi ci ascolta ehm non ci ascolta soltanto perché è interessato sai al pescare perché se no non non andremmo così tanto nei dettagli a me piace toccare perché io sono stato bullizzato per esempio da ragazzina e quale mi ha svegliato una forte voglia di e di rivalza mettiamola così eh sono stati momenti difficili però no 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 capisco guarda no ma figurati guarda a me in linea di massima diciamo che eh ho vissuto ho vissuto periodi della mia vita in cui ero molto arrabbiato molto arrabbiato perché ho avuto ho avuto cioè ho avuto un genitore che non mi ha cresciuto ok quindi ero diciamo internavente molto incazzato certo con mia madre fondamentalmente e spiegarlo ad un ragazzino piccolo cioè far capire determinate cose ad un ragazzino di 14 15 anni poi in una società cioè in una città con un con un contesto particolare come Napoli dove ti offre eh tantissimo sotto il punto di vista del divertimento cose eccetera eccetera ovviamente è complesso capito è complicato e quindi ci sta è stato comunque un periodo bellissimo della mia vita assolutamente però se potessi tornare indietro certe cose preferirei non riviverle ecco questo che cosa gli diresti all'Alfonso di quel periodo se potessi incontrarlo ora direi fai tutto quello che hai fatto non farti mancare nulla perché ogni esperienza sia nel positivo che nel negativo è stata fondamentale per arrivare dove sei oggi l'unica cosa cerca di capire prima qual è cioè cerca di perdonare prima determinate cose e determinate situazioni cioè lasciati andare molto prima cioè non non rimanere incazzato tutto questo tempo perché alla fine poi dopo capirai che non serviva niente cioè ancora non serva niente nulla non ti porto da nessuna parte anzi più sei calmo più sei centrato equilibrato più arrivi avanti sei molto più rapido sei molto più preciso nelle decisioni direi quindi di lasciare cioè direi mi direi guarda perdona prima assolutamente ok questo suppongo abbia avuto un'influenza questo fatto che tu abbia processato questa cosa di quando eri più giovane come ti ha aiutato invece nella vita di tutti i giorni ha avuto dei risvolti positivi suppongo perché dico non portare il roncaro è tanta roba cioè noi ne parliamo così però no no certo guarda io guarda sembrerà assurdo prima mi incazzavo per tutto cioè ero un ragazzino ti ripeto molto arrabbiato poi come ho deciso di perdonare determinati comportamenti determinate scelte fatte dai miei familiari sono riuscito a non portare più rancore per praticamente nessuno cioè oggi sono uno che le cose se le fa scivolare addosso in maniera molto molto serena e tranquilla cioè sono uno che però se prende una decisione è quella capito cioè preferisco preferisco magari non parlarti più ma non perché porto l'ancore ma perché significa che se andiamo avanti in quel contesto arriveremo in un punto dove magari di non ritorno quindi non tutti hanno questa sensibilità e questo crea crea frizioni fantastiche Alfonso grande allora parlando di aziende del settore della pesca subacqua tu sei arrivato a Sigal Sub raccontami di questo processo aziendale come ci sei entrato come ti ando contattata a me piace tantissimo conoscere questo ambiente capirai perché come è andata come è andata no Emiliano mi ha offerto troppi soldi e quindi ho dovuto no scherzo ovviamente scherzo allora guarda in realtà io questo è un discorso a cui tengo molto infatti magari adesso spendo due minuti del nostro tempo per decisare un po' di cose allora io vabbè ho iniziato dei percorsi di sponsorizzazione con una serie di altri brand precedentemente con i quali non sono riuscito ad andare perfettamente d'accordo perché sono uno che ha certe dinamiche e non si è mai voluto piegare io sono sempre stato io sono convintissimo che comunque parte della della situazione in cui si trova il mondo pesca in apnea pesca subacquea è sotto la responsabilità dei brand che oggi preferiscono pubblicare sempre questi benetti video di ragazzi che per prendere un fucile cercano veramente di uccidersi tutti i giorni cioè il concetto è molto semplicemente un tempo venivano sponsorizzati solo i campioni che facevano dei buoni risultati a livello agonistico venivano anche pagati perché ovviamente erano tre e non 43 e quindi c'era come ti posso dire anche una sorta di cioè di selezione fondamentalmente cioè ci dovevano essere dei requisiti validi per questa storia qua oggi dato che ovviamente le aziende si basano solo ed esclusivamente sul marketing pubblicitario quindi social internet e tutto quanto è molto più conveniente per le aziende dare un fucile ad un ragazzo che sta lì fa video tutti i giorni magari rischia pure perché cerca di prendere il pesce che non è ancora in grado di prendere sforzandosi e tutto quanto e allora mi sono reso conto che io a queste dinamiche qua non volevo essere sottoposto cioè nel senso il concetto è molto semplice io sono un agonista cerco di dare il meglio nelle gare faccio parte del gruppo della nazionale e voglio essere valorizzato per questo non perché ti faccio il video non perché ti posto la fotografia io capisco che è una sfumatura essenziale ok questa qui del marketing perché sarei uno stupido a dirti no non serve è chiaro però immagina se a fare il marketing fossero solamente gli atleti super selezionati che fanno risultati importanti a livello agonistico cioè questa roba qui verrebbe amplificata ancora di più se tu premiassi solo queste persone si avrebbe sicuramente un'evoluzione secondo me in merito a questa roba qua e ci sarebbero secondo me molti meno rischi e fondamentalmente il mondo però non sta andando in questa direzione ci sarebbe un mercato anche totalmente diverso assolutamente rispetto a sponsorship e quantato quindi stanno scegliendo quantity over quality esattamente il discorso è quello ma io capisco perché essendo poi un imprenditore io mi rendo perfettamente conto che a livello pubblicitario loro conviene centomila volte avere 40-50 persone che streamano piuttosto che pushano i loro marchi a costo zero perché alla fine ad un'azienda dare un fucile quanto può costare cioè 200 euro 150 euro il costo del fucile finita lì cioè costo zero oggi come il budget praticamente esattamente e riescono ad arrivare ad una quantità di visualizzazioni che va ben oltre voglio dire la quantità quindi io ho intrapreso questa mia crociata fondamentalmente nel senso che ho sempre cercato di far trasparire il messaggio ai brand con cui ho collaborato che io ero lì per una questione atletica non per una questione di marchetta ok lasciami passare questo termine vai 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 purtroppo per una serie di vicissitudini non sono stato capito sotto questo punto di vista o comunque magari lo sono stato e non era quella la visione aziendale per questa per questa diciamo cosa ho scelto di stare da solo io avevo infatti per un periodo di tempo sono stato non sponsorizzato da nessuno avevo cioè ho un ottimo rapporto con Emiliano che sarebbe il team manager della Seagal che già da tempo mi chiedeva ti prego dai partire cioè entra nel team entra nel team entra nel team e io per una questione di rispetto dell'amicizia che ho nei suoi confronti ho sempre detto guarda Emilio io preferisco non entrare perché ti voglio bene come persona non ti voglio perdere perché so già che io ho una visione delle cose un po' particolare non vorrei che ci fossero poi malintesi dopo e quindi non vorrei perdere questa nostra amicizia eccessivamente dopo averci discusso alla fine mi sono reso conto che Emiliano dopo la proposta che mi ha fatto è l'unico ad oggi a credere veramente nell'agonismo cioè alla fine se ci fai caso la Seagal è veramente l'unico brand in questo momento a parte forse la Pathos e qualcun altro ma veramente sono due loro due che si testiano esatto esatto Emiliano è uno che ci tiene veramente tantissimo capito ma è giusto ha tutto senso nel senso che si investe nella nella massima forma di espressione dello sport che è identificata come tra virgolette l'atleta di successo cioè quindi l'impersonificazione dei sacrifici del lavoro con il risultato della delle prede del risultato agonistico è giusto ha senso chiaramente dal punto di vista aziendale io invece sono uno che crede moltissimo nella content creation e moltissimo nei social media poiché hanno un potere inquantificabile assolutamente vengo io e dico è chiaro che è sicuramente una questione di risorse cioè è una questione di risorse che si basa poi sulla visibilità che otteniamo ma da sé che non deve mancare un tassello importantissimo che è il branding del branding cioè se io do un fucile a pinco pallino e questo pinco pallino ti comincia a fare i post sponsorizzati o paid partnership with oppure sai ti fa l'influencer della situazione ma non impersonifica completamente l'ideologia e in sé il branding è una risorsa cioè sprecata sprecata assolutamente va da sé che poi ci sono chiaramente delle campagne di marketing pubblicitarie che sono tipo quelle a tappeto cioè non importa l'importante è esserci l'importante è essere visibile con i grandi numeri che si può anche capire però secondo me una un lavoro e una sinergia tra quello di cui tu hai parlato con una buona content creation secondo me va a creare una formula imbattibile cioè se tu crei video se realizzi del materiale fotografico video però credo che se tu non lo faccia e lo cominciassi a fare chiaramente con dei certi standard perché anche lì non è non è soltanto fare fare un contenuto fare una cosa bella e costruita bene poi il limite è veramente il cielo guarda ma io proprio volevo arrivare a questo avendo un supporto di questo genere sul lato agonistico quindi avendo persone che credono ancora in questo sport in questa disciplina in questo senso tu sei anche più invogliato a farle determinate cose cioè io adesso non vedo l'ora di dare soddisfazione capita di Emiliano perché so che chiami ti serve qualcosa per il campionato lui è lì pronto cioè sono felice di farlo e se vedi l'esponente proprio l'esempio da prendere in considerazione è Luigi Luigi Puretti è proprio l'emblema di un grandissimo atleta che riesce ad essere anche social nel modo giusto se noi prendessimo tutti quanti spunto da lui cioè o meglio perdonami che le aziende del settore sponsorizzassero solo gente come Luigi probabilmente oggi avremmo un mercato della pesca in apnea completamente diverso completamente ma tu tieni conto di una cosa immagina di quanti cioè la verità è che poi le aziende si danno pure una zappa sui piedi perché siamo comunque poche persone che seguono la pesca in apnea cioè non siamo infinite persone tipo altri sport no io tutte le persone che conosco nell'ambiente l'ottanta per cento sono sponsorizzate in una forma o in un'altra i marchi perdono fatturato su sta roba perché se tu sponsorizzi l'ottanta per cento delle persone e ogni anno devi dare il pacchetto fucili ad una persona ma tu quella persona non spenderà mai soldi da qualche altra parte per comprarsi capito quindi sì è vero c'è una visione di branding pazzesca perché tu a costo zero ti fai però c'hai anche una concreta perdita del fatturato dall'altro sì assolutamente ma guarda questo è un io credo che il settore della pesca subacquea sia estremamente indietro da questo punto di vista ne siamo una delle pochissime industrie dove gira nella content creation il denaro pari a zero cioè ne gira poco nel mondo agonistico che dove ci vorrebbero essere i soldi figurati nel mondo della content creation che che porta risultati taggibili per esempio giusto per condividere una una delle strategie che noi stiamo adoperando con i nostri content creator che selezioniamo e che formiamo peraltro abbiamo anche una creator academy disponibile nel nostro sito noi forniamo dei codici sconto che i nostri creator possono utilizzare con il quale possono fatturare con il quale possono toccare con mani i loro risultati perché dal nostro punto di vista io devo capire se l'investimento che sto effettuando su di te mi porta un ritorno perché se no lo riesco a misurare sono soldi buttati e quindi l'idea di distribuire attrezzatura e roba in giro senza avere un metro tangibile del ritorno sul tuo investimento è un investimento fatto male non che il codice sconto sia l'unica misura attenzione però da noi le cose da questo punto di vista siamo molto 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 indietro io sono veramente pro questo mondo però no no però mi rendo conto che secondo me andrebbero fatti dei grossi cambiamenti in termini proprio di visione cioè bisogna puntare la prua da un'altra parte e cercare di cambiare cambiare un pochettino rotta perché così secondo me non si è arrivato a puntare purtroppo considera se prima c'era c'era soltanto la rivista di pesca sub appena dove le aziende potevano farsi vedere se oggi tu togli quello non la rivista ma togli social media cioè queste aziende sono anonime a tutti gli effetti quindi speriamo che coloro i prossimi giovani che si occuperanno dei reparti marketing di questa azienda ammesso che ce ne siano i dipartimenti di marketing in queste aziende riescano a smuovere qualche cosa da questo punto di vista comunque sì l'esempio di Luigi sicuramente tra i più calzanti è quello più adeguato e poi alla base dico voglio scagliere una lancia dico non è che ci vuole chissà che impegno fare un video carino ecco mettiamo la no 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 ma certo ma non è quello il punto il problema capito è che ti fanno passare la voglia di farlo cioè io ho avuto delle richieste in passato veramente vergognose dove mi sono veramente non sentito bene non a mio agio nel farle determinate cose capito cioè quando ti viene fatta una richiesta con determinati crismi eccetera eccetera io la posso anche accettare ma fuori dal cioè fuori dalla grazia di Dio no cioè nel senso che io sto là per un altro motivo e poi devo e poi la cosa importante è che le aziende dovrebbero mettere capo di questa sezione marketing eccetera eccetera gente che sa di che cosa si parla che purtroppo io personalmente ho avuto a che fare con persone che non avevano proprio idea di che cosa fosse la pesca subacquea capito quindi non avevano idea dei contenuti da creare mi è stato chiesto di fare cose strane cioè io sto là per un altro motivo non perché ti hanno chiesto di strano no no non lo dico non lo dico ma figurati niente di particolare cioè voglio dire però cose alla quale io sinceramente non mi voglio prestare ma non perché cioè come devo dirti non perché me la tiro ma perché io sto là per un altro motivo cioè non è ci sta ci sta dimmi una cosa attrezzatura preferita come ti butti in acqua qual è il tuo il fucile preferito vai fucile muta dimmi il tuo attrezzamento diciamo generale ecco allora diciamo che tendenzialmente dipende moltissimo in realtà da che pesca sto facendo quando pesco a dentici uso o un demoltiplicato 116 della Sigal attualmente utilizzo utilizzo a spessissimo il 90 sempre un demoltiplicato quindi sono appassionato di questi fucili che mi sono piaciuti molto e poi vabbè quando proprio sono magari a Ponza nel blu eccetera eccetera mi capita ogni tanto di utilizzare l'oleo pneumatico perché magari ci sono delle situazioni in cui so già che mi serve quel metro in più di gittata per però tendenzialmente utilizzo il 90 e il 116 come fucile principali poi ovviamente corto e fiocinetta non mancano mai a bordo nell'eventualità dovessero esserci pesci a zonzo così pesce bianco saraghi corvine muta io sono uno poco freddoloso quindi utilizzo spessissimo cioè praticamente tutto l'anno utilizzo la 5 poi passo alla 7 nel periodo invernale c'è proprio uno due mesi l'anno dove metto la 8 in realtà quando ero più giovane da piccolo mettevo anche la 3 mm d'estate cioè il completo da 3 poi iniziando a pescare più fondo eccetera eccetera purtroppo non è non è fattibile la 3 dopo un po' inizia a sentire freddo il demoltiplicato come mai perché che cosa ti dà che gli altri non ti danno guarda l'assenza di rinculo fondamentalmente quindi riesco ad essere molto preciso e poi linea di mira pulita sono cose che ritengo fondamentali a sfavore della potenza cioè preferisco avere meno potenza ma essere più preciso avere meno rinculo ed essere più per essere più letale capito da questo punto di vista anche perché sono sempre dell'opinione che comunque bisogna avvicinarsi abbastanza ai pesci cioè bisogna avere prima la mano e poi il fucile cioè il fucile poi io mi sono abituato a tutto quindi qualsiasi tipologia di fucile mi dà io lo uso non ho grandissimi problemi cioè sono uno che preferisce pescare non sono fissato sul mo ci vuole la percentuale d'allungamento queste cose qua cioè io sono uno che va a mare abbastanza in maniera spartana quindi pesco fondamentalmente però in precisione ultime tre domande Alfonso che ce l'ho sulla punta della lingua prima che mi sfuggono sei su un'isola deserta e puoi scegliere se portarti Luigi Puretti o Giacomo De Mola allora guarda io non mi devi motivare niente no 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 ti dico ovviamente Luigi ma perché lui è un altro che reputo un fratello c'è capito per me Giacomo è un carissimo amico voglio dire però con Luigi ho un rapporto strettissimo cioè ok mi basta questo mi basta questo poi un'altra cosa cosa consiglieresti a chi che sta cominciando chi che ha cominciato quest'estate allora cosa consiglierei consiglierei sicuramente un corso di apnea in primis è una cosa ovviamente banale perché avere diciamo i crismi principali per andare a mare credo oggi come oggi sia fondamentale anche proprio in virtù del discorso abbiamo fatto prima video non video no quindi possibilità di arrivare a dei risultati molto facilmente serve il corso di apnea serve per avere quantomeno le basi sulla sicurezza poi quello che consiglio è di mettersi cioè ovviamente per chi ne ha la possibilità dietro qualcuno che ne sa più di te e quindi da cui poter imparare perché è il mezzo più veloce per arrivare a fare la pesca intesa come tale in maniera sicura in maniera magari pochettino più avanzata io per dirti non ho avuto non ho avuto maestri non sono cioè sono cioè a parte mio nonno che mi ha inserito voglio dire in questa cosa io non ho avuto persone in passato con cui sono andato e da cui ho appreso cioè io ho rubato a destra e sinistra un pochettino il mestiere andando a mare con tante persone su alcune tipologie di pesca magari posso dire che andando spesso a mare con Angelo Ascione per dirti in poca acqua in pochissima acqua ho sicuramente io ho rubato tanti piccoli accorgimenti piccoli modi di fare che non sono bastati comunque per arrivare al suo livello magari in poca acqua assolutamente però sono migliorato tantissimo però in linea generale fondamentalmente sono sono cresciuto da solo ed è stata molto lenta la crescita capito quindi la cosa importante credo deve essere così però fatta con qualcuno che ti può dare delle indicazioni è sicuramente tutta una cosa importante la prova di apprendimento cambia nel grafico eh sì perché chi è già chi è già così avanti già conosce i crismi capito per farti fare le cose in sicurezza quindi ti assiste nella crescita e ti velocizza semplicemente un pochettino il processo che deve essere sempre step by step cioè non significa che in un anno in due anni tu devi essere proiettato a fare i 50 metri ecco assolutamente ultima cosa anzi un'e mezza ma quanto ne vuoi tanto io sono libero tranquillo progetti per il futuro ambito pesca progetti per il futuro mondo di Alfonso Cubicciotto eh allora eh ambito pesca dare sicuramente il massimo alle prossime gare cercare di di migliorare eh un risultato di cui non sono estremamente soddisfatto per quanto riguarda l'ultimo assoluto eh spero di migliorare sicuramente questo aspetto qua in termini perché cioè so di poter di poterlo fare so di poter di poter dare molto di più rispetto a quello che è stato oggi eh e fare bene con la nazionale sicuramente perché siamo in vista cioè del prossimo europeo insomma paradossalmente sembra essere molto vicino perché dovrebbe essere a fine maggio e quindi non è così lontano come si pensa e quindi ambito pesca sicuramente quindi ottenere dei risultati migliori rispetto a quello che che ho dato fino ad adesso per quanto riguarda invece Alfonso Lavoro Alfonso diciamo terrestre mettiamola così eh sinceramente non lo dico per per essere banale ma cercare di ritagliarmi quanto più tempo possibile per il mare cioè guarda è un discorso che ho affrontato è un discorso che ho affrontato pochi giorni fa con la mia compagna e e mi sono reso conto che io sono troppo ehm come posso dire cioè sono consensiente cioè nel senso sono uno che cerca sempre di dire sì non sono mai contrario o comunque mi faccio andare bene determinate cose con il lavoro con la famiglia eccetera eccetera mi sono ripromesso quest'anno di essere molto più fermo sotto questo punto di vista perché sta succedendo una cosa particolare il mio tempo libero cioè sto cercando di ritagliarmi quanto più tempo libero e mi rendo conto che le persone che mi sono vicine eh non è che approfittano di questo mio tempo libero però sapendo che io magari ho del tempo cercano di farmelo investire in qualcosa che riguardi loro o che serva a loro e invece no io questo tempo me lo sono preso per me stesso e lo devo dedicare a quella cosa ma quindi sarò più deciso sotto questo punto di vista cercherò di essere un pochettino più avete capito? esatto questo è un avvertimento Alfonso è stato intenso questo è l'aggettivo che voglio utilizzare perché sei chiamata bello mi è piaciuta grazie 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 alla tua disponibilità grazie a te Chris buona buona continuazione allora grazie a te grazie a te